Dopo Batman, Superman, l'Uomo Ragno, l'Incredibile Hulk, è arrivato Capitano Loconte. Non teme l'omertà e i no comment. Capitano Loconte ascolta i pareri della gente e chiede risposti ai cattivi. Il tuo posto di lavoro, la tua città, non sono a misura di bambino e famiglia? Chiama Capitano Loconte, il supereroe della porta a campo. Ogni sabato su questi schermi.